non devo raffigliare il carciofo allora svolentiamo in abbondante acqua salata ok passati dieci minuti incaviamo i carciofi ok poi iniziamo ad aprirlo piano piano ripeto ok una volta che avete aperto tutto ragazzi cerca di toglierli più peluria possibile nel mezzo quindi una leggera pressata con la mano e via adesso ricondiamo quindi un po di sale dell'olio buono ok una bella piastra calda e mettiamo dalla parte condita su e sono pronti da papare papiamo buono buonissimo ragazzo grigliato caccio friglia buonissimo fatevelo che è una vera delizia ciao ragazzi buonissimo ragazzo grigliato